Musica Money.it all'edizione 2019 dell'osservatorio I'm Italia. Abbiamo il piacere di avere con noi Gian Mauro Calligari, Managing Partner di Nexia Audi Revi. Dottor Calligari, le chiedo qual è l'importanza contabile nelle società quotate su I'm Italia. Buongiorno a tutti. Il dato contabile è sostanzialmente una delle cose più importanti nell'ambito sia del percorso di quotazione che della successiva quotazione. È necessario che l'azienda acquisisca una notevole dimestichezza con il trattamento dei dati contabili sia nel percorso di quotazione che soprattutto successivamente alla quotazione vera e propria. Perché poi le scadenze che l'azienda dovrà sostenere una volta quotata le comporteranno una serie di adempimenti che in termini temporali saranno molto stringenti. Per cui l'importanza che viene data al trattamento dei dati contabili diventa sempre più importante nell'ambito del percorso di quotazione ma successivamente nell'ambito della quotazione vera e propria. Su quest'ultimo punto le chiedo qual è il ruolo del revisore contabile nel processo di quotazione? Essendo normalmente una società quotata AIM, una società che è una piccola e media azienda operante nel settore dell'economia tradizionale spesso e volentieri notiamo che queste aziende hanno sì una struttura amministrativa adeguata alla predisposizione del bilancio, alla predisposizione dell'informativa ma notiamo anche che questa predisposizione, questa adeguatezza è un'adeguatezza pre-quotazione quindi è un'adeguatezza legata soprattutto alle informazioni che sono necessarie al management e ai soci per comprendere l'evoluzione della gestione. Una società quotata ha la necessità di avere informativa completamente differente informativa più puntuale e quindi il ruolo del revisore che per l'esperienza che noi abbiamo maturato nel percorso di quotazione dei nostri clienti è quella di essere una sorta di tutor per far comprendere all'amministrazione, al management e ai soci l'importanza della puntualità dei dati e quindi di conseguenza siamo i tenutari sia della revisione dei bilanci ma anche degli altri documenti necessari al percorso di quotazione ma siamo anche coloro che aiutano l'azienda a comprendere l'importanza del dato contabile. Grazie al dottor Caligari di Nexia Audi Revy Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti